Forza Cagli! 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 Grazie. 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 Basta di sbagliare. Grazie. 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 No, ma per un po' fumare. No, bello. Sì, bello. Come dia fumare la siga, vedi? No, va il paluc. Vienimelo. 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 Fumare la siga. Vienimelo. Sì, adesso proviamo col calcetto la passazione. Allora, vedete. Bravo, Massimo. Bravo, Massimo. Vienimelo. 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 Senato un lager�ere. Vienimelo. Sì. Sì. Vienimelo. 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 Grazie. 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 Oh no. Grazie. 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 Grazie 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 Senza sbagliare Grazie 15-11 per il Cagliosso Che color è il Cagliosso? Boh, un rosso bianco Non è un grosso Non è un grosso Non è un grosso Inoltre Grazie Minuto! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!